Grazie a tutti. Di battaglia violenta contro i Novax per il bene comune che ci ha ben illustrato la professoressa anche con i numeri della salute e dell'economia, e quindi non mi ripeto, è stata fondamentalmente una battaglia non scientifica. Qualcuno qui ha detto tra questi illustri scienziati che effettivamente gli scienziati italiani non comunicano, hanno dei grandi ritardi sia nella quantità che nella qualità della comunicazione di massa. E questo crea dei problemi nel momento in cui c'è qualche crisi dal punto di vista della conoscenza condivisa. E quindi mi sono trovato spesso e volentieri, tutti i giorni, anzi per due anni in varie trasmissioni, tutti i giorni, in mezzo ai Novax che dicevano cose assurde dal punto di vista scientifico, ma la maggior parte degli scienziati che rispondevano nel modo sbagliato che ci ha ben illustrato il professor Minazzi e che quindi non mi metto a ripetere. Sostanzialmente quello che io cercavo di fare, mediando a favore della scienza e dell'interesse collettivo dal punto di vista sanitario, dal punto di vista economico, era proprio il richiamo a poppera, la scienza su parafitte, nulla è definitivo, tutto è momentaneo, tutto è falsificabile, ma me lo devi falsificare sulla base galileiana dell'esperimentalismo. Mi devi portare, così come loro vi hanno portato, dati incontrovertibili dal 1964, vaccinazione di massa antipolio e successivamente, nei successivi vent'anni, scomparsa totale della polio in Italia, questo è un dato di fatto sperimentale, sperimentato e riscontrabile, tu mi devi dire che hai dei dati contrari, ugualmente solidi e ugualmente condivisibili. E' ovvio che su questa base nessuno mi poteva dire nulla, ogni tanto citavano questi due o tre medici che sono stati radiati di qua e di là dal mondo, mi portavano, cosa drammatica e anche vergognosa da parte di chi organizzava i talk show, i loro figli in sedia a rotelle, dicendo che erano in sedia a rotelle o per autismo o per altri drammi di carattere fisico e traumatico per colpa di reazioni avverse, io chiedevo però cartelle cliniche, chiedevo chiarimenti, chiedevo certezze diagnostiche, ovviamente non c'erano perché non ci sono, quindi non era una battaglia di opinioni ma era una battaglia di preconcetto. Qual era il preconcetto per essere estremamente sintetico? Non ce n'era solo uno, allora qualcuno ha già detto, e questo era sicuramente valido, certe malattie le nuove generazioni e i nuovi genitori non le hanno mai viste, pensano che non esistano e quindi che motivo c'è di difendersi da queste malattie. Altri non conoscono i dati perché purtroppo la scienza non comunica, perché purtroppo la comunicazione di massa tutta pubblica e privata negli ultimi dieci anni non ha fatto più divulgazione scientifica di massa, non ci sono più giornali, non ci sono più trasmissioni e quindi come fanno avere questi dati? Quindi complimenti all'Università di Varese e dell'Insubria per aver organizzato questo, grazie professore, per aver organizzato questo incontro che è rivolto non dentro l'Università ma verso la popolazione. L'altro problema che io ho percepito è stata la difficoltà, sempre in termini di comunicazione, di esprimersi e di farsi capire. Quelli che erano anche bravi dal punto di vista della comunicazione, della disponibilità alla comunicazione spesso usavano un linguaggio gergale, un linguaggio tecnico che in termini di comunicazione di massa, cioè vuol dire un ascolti da 600 mila a 3 milioni, non va assolutamente bene. Ieri ho dovuto riprendere una persona che ha detto inferente o inferenziale, ha detto scusi non usi queste parole, spieghi che cavolo è l'inferenziale. Poi c'è sicuramente, questa è un'ondata politica, io in questo momento non apro il dibattito politico, ma certamente oggi chi ci governa, chi ha vinto le elezioni scorse, si è strutturato in un attacco generale alle competenze. Lino Banfi all'UNESCO è un segnale voluto di dire che non c'è bisogno di avere lauree, lo ha detto anche Lino Banfi, non c'è bisogno di avere una preparazione per fare qualunque cosa. E questo è un dato non politico, ma culturale gravissimo, soprattutto perché ha ricevuto un riscontro elettorale e soprattutto un riscontro elettorale giovanile non indifferente. A proposito di questo, cito tre personaggi di grandissima importanza, che sono i due Grillo. Allora, grazie a Burioni e a Renzi, Grillo si è ricreduto poche settimane fa, è venuto a Canossa e si è scusato e si è pentito. Ma se voi andate a guardare, ha detto delle cose atroci per due anni ed essendo il garante di un movimento che ha preso il 37%, capite il significato a livello di comunicazione di massa. Per questo bisogna svegliarsi in termini di controcomunicazione scientifica di massa e divulgativa. L'altra Grillo, cioè l'attuale ministro della Salaute, prima di dirci che lei ha vaccinato i suoi figli, ha aspettato mesi dicendo un po' sì, un po' no, un po' qua, un po' là, che il decreto Lorenzini non andava bene appunto perché era mandatory, cioè era obbligatorio. Qualcuno ha ricordato che è molto meglio in inglese dire raccomandato. Però era obbligatorio perché la gente non vaccinava più i figli e se non vaccini più i figli non solo fai un danno ai tuoi figli, ma fai un danno agli altri figli degli altri. E quindi purtroppo l'obbligatorietà è stato un dato che secondo me la Lorenzina ha dovuto e io anche l'ho aiutata, perché io non amo obbligare niente a nessuno, ma ormai avete visto i dati del morbillo, ma anche su altre questioni. Cominciavamo a avere un crollo sotto la soglia del 93%, che è la soglia dell'effetto gregge e quindi della sicurezza per tutti. E poi c'è un fatto strano, che tra i maggiori avversari della prevenzione c'erano genitori giovani colti. Cioè le persone di nuova alfabetizzazione e di nuovo benessere sono ancora, per fortuna, come eravamo tutti noi e i nostri genitori negli anni 60-70. Quindi c'è qualcosa di strano, perché la cosiddetta elite italiana, tutti si lamentano che l'elite italiana non si fa più sentire, ma se è così, che non si faccia proprio più sentire, se ne vada da qualche altra parte. Perché se noi vediamo che quelli che non vaccinano sono soprattutto giovani e colti, capite bene che non abbiamo molta speranza. E quindi io per rispondere a questi cosa ho fatto? Ho accettato l'invito di Bill Gates e della moglie, sapete che hanno questa fondazione a cui dedicano metà intera del loro patrimonio. Tutti sanno che fanno un'azione per la malaria in attesa del vaccino, regalano le reti per non essere punti dalle zanzare, ma spendono una quantità enorme di soldi, come i Rotary, qualcuno l'ha ricordato, per l'eradicazione della polio, ma in generale per la vaccinazione. Mi hanno invitato in Gambia, dove le giovani madri, e sapete che in Africa sono madri veramente a 14 anni, si fanno centinaia di chilometri a piedi per portare il loro bambino di 3-4 mesi, come ci ha detto il nostro pediatra, quando è il momento giusto per fargli fare, contemporaneamente pagati da Bill Gates, 10 vaccini. In un paese dove la diffusione sia delle malattie infettive nostre, sia loro, mi ha portato a fare 10 vaccinazioni, io che dovevo andare lì a vedere queste cose, sia di nuova vaccinazione, sia di richiami. Le fabbre gialla e tutto il resto. Questa cosa, pubblicata su uno degli ultimi numeri di Panorama, prima che Panorama venisse svenduto e abbandonato all'orrore, ha fatto dire a molte persone, perché abbiamo i mezzi per verificarlo, foto, descrizioni, video, le donne africane, ignoranti e povere, che vengono a piedi attraverso la savana e si fanno 100 chilometri ad andare e 100 a tornare, perché vogliono vaccinare con 10 vaccini contemporaneamente i loro bambini, forse qualche cosa a queste strane madri colte e benestanti italiane dovrebbero poterlo dire. Purtroppo, siccome io vivo di memoria e per fortuna mi funziona, nonostante tutto l'alluminio che prendo tutti i giorni, Salvini ha detto, ce l'ho qua nelle mie orecchie, 10 sono troppi e sono probabilmente anche pericolosi. Quindi su certe cose, su quasi nulla sono d'accordo e ci governano insieme, ma su questo sono stati drammaticamente d'accordo. Allora, se qualcuno vuole intervenire, possibilmente domande, non interventi, perché abbiamo solo un quarto d'ora, benvenuti e scusate se abbiamo dovuto affannarci in corsa. Credo che vi abbiamo clamorosamente... Grazie. Credo che vi abbiamo magnificamente vaccinato in queste due ore, però, insomma, se avete bisogno ancora di qualche dose, prego, portate il microfono, per favore, a quel signore. Considerate queste due ore e mezzo una vaccinazione di massa. Buonasera a tutti. Buonasera, se volete, non è obbligatorio, vi presentate. Mi chiamo Alessandro e... Già comincia bene. Comincio bene. Non ho una formazione scientifica, perché ho fatto un dottorato in diritto ai scienze umane, sono stato allievo del professor Minazzi, e anche oggi è stato bravissimo, come sono stati bravissimi anche gli altri scienziati, perché hanno permesso, con una grande chiarezza espositiva, far capire anche a noi, che non siamo del settore, l'importanza e come stanno... Era fatta apposta, quelli del settore, se non lo sanno, c'è niente da fare, insomma. Sono davvero... Siete stati bravissimi. Volevo fare una domanda... Lei lo sa che un moderatore, quando c'è questa premessa, è terrorizzato? Siete stati bravissimi, grazie, grazie. No, no, solo pars costruens, non destruens, ecco. Io sono... Ci sono i no-vax, io da sempre sono pro-vax, perché appunto ritengo che i vaccini siano fondamentali, abbiano salvato milioni di persone dalle epidemie, dalla morte certa, quindi è una cosa fondamentale. Personalmente mi vaccino anche su cose di cui non dovrei, perché ho 35 anni e da 10 anni mi vaccino regolarmente pagando 10 euro contro l'influenza. E con questo dei grandi benefici perché... Eviti il papillomavirus perché non ha l'utero, che non mi ammalo più, quindi... Eviti il papillomavirus perché l'occhio e croce non ha l'utero, ma per il resto non ha... No, esatto, l'utero non ce l'ho, esatto. Però volevo dirvi, io mi volevo chiedere una cosa, mi sono vaccinato anche, per esempio, contro l'epatite A e contro anche la meningite, però per questi vaccini ho trovato più difficoltà, per esempio quello contro l'epatite A sono dovuto andare a comprarlo in Svizzera. Va bene, ho pagato 50 franchi e l'ho preso. Per cui io dico, per gli ultras, diciamo, pro-vax come me, cioè però non possiamo essere più facilitati a trovare dei vaccini, perché alcuni vaccini non si trovano. Senti, io l'adoro, e non ho mai avuto in due anni di discussioni un pro-vax che protesta perché non trova tutti i vaccini che vuole. Per esempio, quello contro la meningite o meningococco, so che ce ne sono due, io ne ho trovato solo uno, il tetravalente, mi pare l'altro no, e mi hanno detto che l'altro ha di aspettare. Lei lo sa che è un po' ipocondriaco, io lo dico da... No, no, sono molto ipocondriaco. Sono molto ipocondriaco. Però dico, fateci trovare più facilmente... No, ma lei c'ha ragione, meno male che sta a Varese, che la Svizzera ha due passi. La Svizzera ha due passi. Pensi a uno di Canicattì, poveretto. E' un poverino, infatti, infatti. Quindi, volevo dirvi, comunque, ve ringrazio, termino... Vedi, Alessandro, che non arriva la mazzata, anzi, erano solo i complimenti. Ma no, anzi, è stata fantastica. Io questa cosa la dirò. Un Sivax che non trova abbastanza vaccino in giro. Però, questa cosa, in realtà, esiste un problema di disponibilità ogni tanto. Ehi, non so chi vuole dirmelo a colla, visto che lei è l'organizzatore a quest'onere. Effettivamente, ci sono ogni tanto degli shortage di donne. Ogni tanto ci sono, specialmente... Adesso stanno accadendo, per esempio, il vaccino antinfluenzale. Ci sono delle carenze in alcune province perché l'utilizzo è stato superiore a quello previsto. Ma sai perché? Perché lui va in giro e si vaccina in tutte le regioni. Eh, ti sei preso tutto te. E quindi crea un... È colpa via. È importante, invece, sottolineare quello per l'epatite A. L'epatite A di solito viene fatta a persone che possono venire esposte a questa patologia perché fanno dei viaggi all'estero. Il Comune di Varese e l'ASST di Varese è una delle migliori che io abbia mai trovato perché ho girato vari posti. E c'è la disponibilità costante per l'epatite A. Secondo me non ne possono più di vederla. Se lei va, non ce l'abbiamo. Se lei o te, andiamoci del tu, invece di andare in farmacia vai al servizio vaccini dell'ASST, lo trovi. Ovviamente loro privilegiano le popolazioni più a rischio, cioè quelle che vanno fuori per certi tipi. A dire la verità, non per correggere, sono andato, però non c'era. Ecco, questo io lo devo dire. Momento, aspetta, aspetta. Non volevo creare confusione. No, anzi, no, ma noi vogliamo creare tutti i vaccini. No, noi inventiamo anche uno apposta. Minazzi, hai fatto un mostro. Professor Minazzi ha creato un mostro, sì. Al professor Minazzi faremo fare il vaccino contro la stupidità, perché penso che sia la persona più adatta. No, comunque ha ragione, nel senso che c'è stato proprio un momento di carenza, perché purtroppo la produzione dei vaccini non è una cosa banale e a volte la produzione non è sufficiente a soddisfare quello che è la richiesta. E quindi vanno proprio in quello che si chiama rottura di stock e devono essere poi rimpiazzati. Quindi ci possono essere dei momenti in cui uno specifico vaccino non è disponibile. Era successo quando era stato commercializzato il vaccino per il meningococco C, c'era stata la corsa a vaccinare tutti per il meningococco C e non ce n'era più. Bisognava andare in Svizzera a comperarlo pagandolo ben di più di quanto non era il costo in Italia. Però questo sono legato proprio al fatto. La produzione, da parte delle aziende farmaceutiche che producono vaccini, prevede un determinato quantitativo. Se poi, diciamo, le vendite vanno oltre quello che è la previsione, devono rimpiazzarlo. Ma non sono cose che si producono in un giorno. Le informiamo che esiste Alessandro, che è un anticorpo vivente sostanzialmente. Ma può essere molto interessante. No, ma è stato molto utile perché ha scatenato le azioni. C'è anche il professore che vuole dire delle cose. No, io posso dire solo questo. Mi sembra che i prezzi dei vaccini ci sono anche su internet, e li potete vedere. Soprattutto quelli per anziani che non rientrano nelle categorie. Supponiamo io che volessi fare Herpes Zoster, cosa molto utile a una certa età. Ecco, questi vaccini hanno un prezzo veramente forte. 170, 150, 180. Una dose. Ma ne dovete fare due. E forse anche tre. Morale, una famiglia di due, diventa mille. Poco più, poco meno. Ora, questi vaccini sono venduti negli ospedali o comunque alle ASL a almeno metà del loro prezzo di listino. Perché non viene praticato per facilitare le vaccinazioni almeno un prezzo agevolato? Questa è una richiesta che si potrebbe fare perché non tutti possono permettersi queste cifre nonostante le raccomandazioni. Ci vorrebbe qui un dirigente ospedaliero responsabile della farmacia interna, ma non ce l'abbiamo la prossima volta. Ma per esperienza diretta l'antiveningo cocco tetravalente per esempio viene fatta all'ASL con un copagamento. Io me la sono fatta ho pagato 40 euro. Prezzo di listino 100 euro. Chi si è vaccinato di più e con che cosa? Perché questa è bellissima sta cosa. È una gara virtuosa. Un microfono per la mamma rotariana. Microfono. Alessandro, grazie. Secondo me tu ormai sei in grado di immunizzare tu sei un greggio vivente in positivo nel senso che soltanto averti vicino ti immunizzi. Consentitemi una riflessione ad alta voce perché poi si passa veramente dalla grande competenza dei pediatri sui vaccini veramente sono degli attenti accompagnatori rispetto a questa cosa. All'età pseudo adulta perché a 16 anni non si è adulti dai 16 ai 18 dove una mamma ha ancora il monitoraggio sulla salute del figlio in cui l'informazione non passa più in maniera così diretta né dall'ASL dove credetemi una riflessione che posso dire che l'ASL di Varese secondo me è eccellente rispetto ai richiami non mi è mai capitato di dover prendere un appuntamento per cose particolari però secondo me bisognerebbe accompagnare la cultura del vaccino anche in maniera più avanzata perché dal medico di base poi si rischia di parlare di vaccino anti-influenzale e tutto quello che viene adeguato poi tra il bambino e l'adolescente rimane un po' scoperto grazie Professori chi dovrebbe fare questo accompagnamento tra i 14 anni quando lasciano il pediatra e dopo Il medico di famiglia No direi il medico di famiglia non possiamo continuare ancora dopo Lei vuole continuare ma io non vado a 16 anni da un infettivologo porta pure male Direi che il passaggio del testimone è tra il pediatra e il medico di famiglia la sensibilizzazione probabilmente che dice la signora è sul medico dell'adulto che dovrebbe forse interessarsi un po' di più lei dice alle vaccinazioni e a questo programma di prevenzione attiva Lei è vaccinata signora i suoi figli Manca niente Sono fortunata perché sono ben accompagnata da persone che mi accompagnano tanti medici però ci sono non ho capito lei è accompagnata sempre da tanti medici ho tanti amici medici e quindi posso essere l'italiano sta peggio di lui è ipocondria che anche lei va in giro con tutti i medici che non si sa mai ma l'informazione deve essere democratica quindi deve arrivare a tutti e sono d'accordissimo certo che sì allora c'è qualcun altro prego uno due tre poi basta grazie io farei un pleumococco fatto 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 non funziona ancora sono Pier Maria Morresi medico un'osservazione solo il sonno della ragione genera mostri abbiamo sentito parlare di mostri abbiamo sentito di giovani intellettuali è il sonno della loro ragione che mi preoccupa mi preoccupa come cittadino e quindi in questo non posso che godare chi si spende in questo modo quindi con l'accademia che si avvicina al cittadino per dare conoscenza e competenza ma però nello stesso modo chi non ha conoscenza e competenza pur avendo i titoli di studio che sono i nostri giovani i nostri giovani governanti mi preoccupano ancora di più non hanno neanche lo studio no non hanno titoli va bene autoreferenziali l'autoreferenzialità credo che l'unico laureato sia Conte anche Giorgetti è laureato in economia anche Giorgetti è laureato laggiù grazie dottore non volevo fare un discorso politico no 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 ma è culturale non è politico ci mancherebbe prego laggiù hai alzato la mano con la maglia a righe grazie mi chiamo Andrea sono studente di medicina ancora secondo anno quindi avrò piacere di affrontare tutte le materie dei professori presenti più avanti ricordagli quando fai gli esami che c'eri oggi perché i professori sono sensibili a queste cose non è per quello sicuramente anzi ringrazio per l'intervento che c'è per l'occasione che è assolutamente positiva per tutta la città di Varese una sola cosa si stava parlando prima di vaccino HPV credo che poi voi saprete sicuramente più di me anche per il maschio abbia un'importanza perché ci sono delle patologie legate al vaccino HPV quali tumori al viere superiori o comunque alle ma anche i condilomi anche i condilomi esattamente guarda sono stato bacchettato se questa è la domanda dalla professoressa che adesso perché io mi interessa no beh è stata lei bacchettarmi quindi a questo punto vada era questa la domanda sì no volevo che sì 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 approfondiamo è colpa mia e anche per il tasso di cioè per ora il vaccino viene offerto agli 11-12 anni a tutti fino a qualche anno fa invece solo alla popolazione di sesso femminile e quindi anche in senso di un'immunizzazione di gregge per questo tipo di patologie no anche perché è il maschio non vaccinato che può attaccarlo alla ragazza esatto e il problema è che il professor Veronesi amava talmente tanto le donne che ci faceva occupare solo delle donne questa è la verità beh da tra parte si occupava della mammella ha fatto tantissimo per il problema del tumore al seno prego grazie comunque oggi è possibile vaccinare anche i maschi fino a 26 anni di età non è possibile farlo dopo c'è andato detto non c'hai nessuna speranza mi dispiace c'è una richiesta fatta anche da sottoscritto oltre che da altri perché ci sono alcune popolazioni di soggetti che sono i maschi che fanno sesso con i maschi che sono a rischio alcuni di questi hanno l'HIV e quindi il rischio poi di sviluppare non solo i condilomi ma anche patologie oncologiche il carcinoma del pene che non è una cosa carina da avere per sì che si estenda la fascia di età nella quale è possibile vaccinare anche i soggetti di sesso maschile per le donne si possono vaccinare fino a 45 anni per i maschi solo fino a 20 anni perché non ci sono dati non perché ci siano controindicazioni però mancano dati a supporto e quindi AIFA autorizza la commercializzazione con quell'indicazione solo dove ci sono studi che l'hanno documentato quindi c'è una richiesta in corso per cercare di estendere proprio in alcune categorie che sono a maggior rischio di acquisire questo tipo di prof però a me risulta mi bacchetti anche lei che purtroppo sono tanti i ceppi di papillomavirus coinvolti nella trasmissione sessuale per cui non è contro quale si va a vaccinarsi ci sono i bacini oggi disponibili sono sono multiceppo esattamente immunizzano nei confronti dei ceppi che prevalentemente sono associati ai condilomi e allo sviluppo di neoplasie quindi è chiaro che non è possibile non è disponibile un vaccino che sia omnicomprensivo ma però si cerca di immunizzare nei confronti di quelli che più frequentemente sono in gioco o nelle patologie minori ma comunque fastidiosi come la condilomatosi o quelli invece a rischio oncologico sia per la donna che è stata inizialmente privilegiata ma anche per il maschio e se non il preservativo prego no è verità che dobbiamo fare io sono Andrea e volevo fare una domanda ai due professori che hanno avuto un intervento la prima sull'ossigenazione esterna volevo avere dei chiarimenti che non ho capito come si fa quello non respira gli devi mettere l'ossigeno nel sangue in brevissima orrenda sintesi divulgativa chi è che parlava del quel poveretto ero io che parlavo di un paziente appunto pazienti che sviluppano forme gravi di influenza la polmonite da virus H1N1 nello specifico in genere vengono ventilati meccanicamente e questo nella gran parte dei casi è sufficiente a far superare la fase diciamo di iperacuzie della malattia in alcuni casi il danno provocato è tale che anche con la ventilazione meccanica non è possibile garantire un'ossigenazione del sangue e quindi si utilizza questo sistema che si chiama ECMO che è di ossigenazione extracorporea e poi di fatto gli apparecchi che si utilizzano quando si fanno gli interventi di cardiochirurgia a cuore aperto è un ossigenatore esterno cioè quindi vicaria quello che è l'incapacità del polmone in quel momento per il fatto infiammatorio acuto che presenta è in grado di ossigenare il sangue esternamente quindi vicaria la funzione la ringrazio l'altra era non mi ricordo che ha fatto l'intervento riguardo alle regioni d'Italia più colpite da infezioni e c'era che la Lombardia era la più colpita sempre lei perché per un fatto di popolazione perché ha una popolazione maggiore o c'è un motivo particolare c'è una densità di popolazione certamente elevata è la ragione più popolosa che abbiamo nel paese credo che sia anche forse espressione del fatto che la percentuale di soggetti che effettivamente come ha mostrato la professoressa Jacoviello si vaccina anche nell'ambito delle fasce più a rischio dove sarebbe raccomandato e utile vaccinarsi di fatto non è così compliante cioè così attenta nell'effettuare questa vaccinazione che invece è altamente protettiva la ringrazio la ringrazio molto concludo io dicendo quando parlavamo prima di polmonite che è chiaro che ci sono epidemiologia dati ma io effettivamente negli ultimi due tre anni non ho mai sentito parlare di tanti casi di polmonite tra colleghi conoscenti di qua e di là giovani io non sentivo parlare di gente che aveva la polmonite da quando si leggevano i libri dell'ottocento invece negli ultimi due tre anni poi ci avete dato i dati abbiamo visto quella curva pazzesca dell'opneumococco di tanti giovani con la polmonite quindi purtroppo se ne comincia anche a parlare professori professore a lei le conclusioni perché il padrone di casa grazie io non posso che ringraziare tutti in modo particolare voi che siete venuti e che avete sopportato queste come si dice queste discussioni e queste presentazioni da parte nostra cercando sempre ovviamente il fine nostro era quello di stimolarvi a una maggiore sensibilizzazione verso il problema dei vaccini che è un problema colossale si è affrontato come diceva anche il dottor Cecchi Paone in una maniera sbagliata e da un punto di vista sociologico e da un punto di vista politico volevo ringraziare in particolare lei perché è stato fantastico nel moderare e nell'animare questa discussione con questo mi permetto di essere ancora un pochettino egoistico e nel caso dovessimo organizzare un'altra riunione di questo tipo la costringerò a venire qua con sommo piacere grazie un medico condotto ma sono un conduttore di medici grazie moltissimo grazie a tutti voi grazie ai partecipanti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti